TECVAPE Bene, 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 l'Iliquid Friends, sappiamo che fanno dei liquidi buoni ma a volte anche di merda e proviamo la serie Sweet Cream della Iliquid Friends. Abbiamo il number 9, Chambela di cioccolato, il number 7, yogurt e blackberry che è la mora, il numero 24, la mistura di cupcake, cheesecake con pancake, cioè con le noccioline, panchecca alle nocciole e il creme caramel, ragazzi, creme caramel. Poi abbiamo il numero 16, Peach and Whip and Cream, che non so che cazzo sia la Whip and Cream, lo assaggeremo, e il numero 32, Burro d'arachidi, Cookies and Whip and Cream, quindi questa è Whip and Cream. No, aspettate un attimo, Peach and Whip and Cream, Nick, so leggere, Whip and Cream. No, è che sarà un altro nome che sarebbe pronunciabile da parte mia. Whip and Cream. Va bene, vado ad aprire. Allora, vediamo un pochettino, sperando che Madi Lesbacolo non faccia come a quel presente. Anzi no, anzi no, guarda, non ti voglio dare la soddisfazione, non ti voglio dare la soddisfazione. L'avvicino, fai sentire quel bel rumore. No, no. No, no, la devi far sentire l'avvicino. Va bene. È una cosa poetica. Ah, senti qua, la cosa poetica, sta a vedere. Allora, andiamo a prendere intanto i liquidi, questi ce li hanno dati, vieni in camera, Madonna Santa, ti allontani sempre anche con lo schermino. Che cazzo l'abbiamo presa a fare una telecamera migliore? Fa cuffia. Io ammazzo. Va bene ragazzi, allora, veniamo al primo liquido. Vediamo il primo liquido, allora, è 7, 7, 7, 7, che è 7? Ricapitoliamo, 7, yogurt e blackberry. Yogurt e blackberry? Iniziamo con il 7, mio caro. Ok. Lo proveremo sul clutter mode, ovviamente. Ma sono tutti cremosi, quindi va bene anche sul clutter mode. Vediamo questo odore, sentiamo l'odore, le boccettine bianche sono veramente belle. Sono buone. Ragazzi, le boccettine bianche è qualcosa di bellissimo, guardate. Se si riesce a dimettere a fuoco, eccolo qui, guardate che bello. Ma è buono. Dall'odore si sente tantissimo blackberry. Buono, buono. Ho allagato il video. Come al solito. Pinfia ragazzi, ma che cazzo. Composizione, la vuoi al petto un attimino. Beh, dovresti 70-30, i liquid friends li fa tutti in quella maniera. Ok ragazzi, sono ciecato, quindi non riesco a vedere, dovrebbero essere 70-30. Prendetelo come buono. Intanto che lui sta svapando. Dall'odore comunque anche così. Ecco, a me non sa di un cazzo. No. La senti? Non sa di un cazzo. È una cosa indiescrivibile. Ma non perché fa schifo, ma perché non... Non sa di un cazzo, sa di latte. No. E basta. Io non sento blackberry. Cioè, sento qualcosa di grumoso, ma... Ragazzi, abbiamo una build comunque da... Tanto da flower, eh. Nel senso, sono le coil di Isaac. Non è... Non è il coil del cazzo. Sono le alien di Isaac che si... Ci sento veramente bene cremosi io qui. Boh, vabbè. Ragazzi. Vabbè, primo gocciato. Io, il numero 9, non si sente un cazzo. Proprio, non si sente il gusto. Numero 6, come hai detto prima. No, 16. Numero 16, scusate. Pesca e whipped cream. Perché non so. Perché dovrebbe cazzo. Cazzo è la whipped cream. Non lo so neanch'io. Quindi, se sa di pesca, bene. Quell'altra roba, non lo so. Scriveteci cosa cazzo è questa whipped cream. Perché che cazzo è? Oh, buono. Questo è buono. Questo è buono. Ti dai un'asciugata. E andate, guardate, si sente. Tanto decide. Facciamo vedere anche questa. Ragazzi. Questo è buono. Buono? Sembra molto la... La crema... La crema dello zabaglione, forse. Oppure è crema montata. Perché può essere anche... No, è crema. È cremoso. È la crema, è la crema pasticcera. E c'è da diffruttarsi la crema pasticcera. Certo, dire che... È buono. La pesca non è invasiva. L'hanno bilanciata bene. Cioè, si sente... Vi vedete presente lo yogurt alla pesca? Dove state quei pezzettini di pesca in bocca. Un po' caramellati, forse. Un po' sotto zucchero. E si sente buono. Allora, a me sembra la crema pasticcera con la pesca. Non è... È buono. Questo è promosso. Number 16. Questo è promosso. Questo è promosso. Veniamo. Passiamo a noi. Passiamo al prossimo. Qual è che peschi? Number 9. Ciambella al cioccolato. Questo, se non è buono, è il Liquid Friends. Chiudete i battenti. No, ora, non esageriamo. Dai, proprio chiudere i battenti? No. Facciamolo vedere. Eccolo qua. Number 9. La vedete benissimo. È veramente, veramente fumoso. 70-30. 70-30. Vestiti bene. Buona qualità. Tanto sticcolo. Incenso. Eh, aspetta, che se no riesca a settirlo. Incenso. Oh, e che cazzo? Incenso. Oh, buono. Bip. Si è un po' di schimicata. Mi sa che il livello di abaking non si ne aggiunge, vero? No, 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 no. Non riesce a guardare questo video e... C'è un palamone, mi sa. Tra l'altro non vedo l'ora di andare a rubarti qualche liquido. Che è? La ciambella si sente. Il donut si sente. È un po' schimicato. È un problema del cerco, il cioccolato. È schimicato? Vi ricordate il liquido della vaking? Abbiamo detto quel cioccolato che si sente che è proprio cioccolato. Questo si sente un simile cacao. Questo è un cacao in polvere fatto male. Sì, sì. Amarogno, l'osperosone. Quello, 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 quello dell'Eurospin, che non sai di un cazzo. Esatto. È bello. Però la ciambella è buona. Bocciato. Allora, se non solamente ciambella con glass, mi dicevo, questo è un ottimo liquido. Ma ciambella è questo cioccolato cioccolato che non ci sta bene, che stona. Però, per carità, è sbapabile. No, 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 si sbapa bene, è buono rispetto... Cioè, il primo non sapeva di un cazzo. Il Sixteen era buonissimo. Ve lo consigliamo tantissimo. Sì. Questo sta alle vostre papille scegliere. Sì, sticca. Adesso andiamo a vedere il number 24. Number 24. Mixtura di cupcake, cheesecake con pecanuts. Non mi ricordo che cazzo sono le pecanuts. E il creme caramel. Pecanuts dovrebbero essere delle... Nutze e nocciola, noccioliasi. Sì, sì. Può darsi. Associiamo, associiamo. Questo mi sa... C'erano mal vero, sono riuscito a capire io la descrizione in inglese. Pecanuts io non ho mai utilizzato. No, questo è buono. Questo è buono. L'odore è buono. Svapando... Cambio, faccio un change di battery. Sì. Svapando non saprei dirlo. Fammi sentire. È buono. A me sembra. Lo hacker. Sì. Mi sa che è lo hacker. All'odore... All'odore del lo hacker. È nocciola. Speriamo che sia meglio del lo hacker che abbiamo assaggiato della serie Monkey. Ti ricordi? Non pensare molto che era buono il lo hacker. Ma a me non è... Sì, mi era piaciuto, ma dopo un pochettino la lunga è stanca. Non vi saprei dire. Perché? Allora... È buono. È svapabile. È svapabile. Perché è buono. Però io non so dove sentite la cheesecake. Dopo non lo so. Non riesco a capire dove cazzo è questa cheesecake. Però la nocciola non è male. No. La riuscita a generare è una da bene della nocciola. Allora... È un po' formaggioso dolce. È diverso rispetto a quelli della nocciola. Però no, a me piace. A me piace. È diverso. È più... Forse leggermente più bilanciato. Riesce a sentire bene i gusti, ma... È il cacao. Il cacao non ci sta bene. No, io invece no. Io ci sento proprio il cheesecake. A me piace. A me piace. Questo è buono. Un misturato di cupcake. Mio. Non è male. Mio. Mio. Va bene, veniamo all'ultima serie per questa qui. Della Sweet Cream numero 32. Faccio vedere. Burro d'arachidi. Cookie and Whipped Cream. Ok, burro d'arachidi mi farà cagare sicuramente. Perché è una cosa che non sopporto. Vabbè, ragazzi. Io vi dico. Se sa o meno di burro d'arachidi. A me non piace. Mi fa veramente cagare. Però... Assessi. Ancora quello di prima. Io non sento un cazzo. Ma nemmeno io, perché forse abbiamo buttato troppo... Io non sento un cazzo. Abbiamo fatto un po' la nebbia. Ho paura di svaparlo. Ho paura, eh. Vado? Ciao. Amici francesi. Amici francesi. La serie Fruis era ottima. Ottima. Abbiamo altri due pacchetti delle vostre serie. Che poi vedrete anche voi, i nostri amici di YouTube. Già in Francia fate certi cibi che sono veramente schifosi. No, dai, non dì così. Dai, andiamo. No, dai. Che cazzo francesi guardate il ratatouille. Che cazzo combina. Andiamo. Allora. No, dai, su. Non dì così. Rimanete con i fruisi. I fruttati vi riescono veramente bene. A parte quella merda di Ribes nero e mango. Che cazzo di accoppiata di merda era. I fruisi mi sono piaciuti tanti. Li finisco sempre. Perché li prendo. Perché sono freddi. Qui sono due lì. Uno non sapeva di un cazzo. Uno l'ho lanciato io. E per lanciare un livido vuol dire che... Rimanete sui fruttati. È meglio. Avete visto la serie... Qual era quella che mi faceva a me? 24? 24. Proprio sì. 24. Questo me lo prendo io. Avete visto tutta la serie... Dei... Sul cream. Ok. Giudicate da questo video. Ma quello che vi diciamo sempre. Provateli. Andate da un shop vostro. E provateli se li trovate. Sì. Non li prendete a occhi chiusi su internet. Perché potrebbero non piacervi. E questi sono formati che ci hanno dato. A Napoli per di prova. Sì. Allora ragazzi. Formati da 60 ml. Quando cazzo li potete strozzare? No mai. Ragazzi ovviamente. Vi abbiamo dato un nostro modesto parere. Io vabbè. Dico che mi fanno cagare. Ma vabbè. Lasciamo perdere. Ci sta che magari a voi possano piacere. A me. Me ne è piaciuto uno. Il 24. Che è quello con la cheesecake. Io c'ho sentito la cheesecake. Era buono. Un altro era un ni. L'altro come hai detto. Ti è il primo che è assaggiato. Vabbè lasciamo perdere. Non venite a dire che la build è sbagliata. No. Perché la build che io uso sul Cosmonaut è proprio esclusivamente solo per i cremosi. E li sento tutti. E strana. E stranamente. Stranamente. Svapa i cremosi. Lui. Stranamente. Quindi ragazzi. Vi invitiamo ad iscriversi su Instagram. Facebook. Lasciate un like. Iscrivetevi anche a YouTube. Al gruppo. Cala da Svapo. Arriveranno altri video. Saranno un pochettino più lenti in questo periodo. Perché siamo veramente indaffarati. Ed uscirà anche un video. Sì. Mi sa prima di questo forse. Quindi nel senso. Forse ve lo lascio qui in descrizione. Ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.